La diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi è ormai pronta per accogliere il suo nuovo vescovo, Monsignor Domenico Cornacchia. Domani, sabato 20 febbraio, infatti, farà il suo ingresso nella comunità e proprio Teledeon seguirà in diretta questo particolare appuntamento e il servizio. Tutto pronto per l'attesissimo evento dell'ingresso di Monsignor Domenico Cornacchia nella sua nuova diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, in programma sabato 20 febbraio 2016, evento che sarà seguito in diretta da Teledeon a partire dalle ore 17.30 sul canale 18 HD 518 e in streaming sui siti internet teledeon.it e diocesimolfetta.it. Alle ore 17.30 l'autovettura di rappresentanza del comune di Molfetta accompagnerà il vescovo dal pontificio seminario regionale alla cattedrale, quindi si recherà sul sagrato della chiesa del purgatorio dove riceverà gli onori militari e il saluto delle autorità. A conclusione di questo momento il vescovo, i sacerdoti e i diaconi si recheranno nella cappella del seminario vescovile per assumere le vesti sacre per la celebrazione, quindi avrà inizio la processione d'ingresso verso la chiesa cattedrale. Dopo i consueti rituali ed il saluto liturgico, il vescovo consegnerà al cancelliere della curia la lettera apostolica che verrà letta davanti all'assemblea. A conclusione della lettura, con la formula disposta, l'amministratore diocesano darà l'annuncio dell'insediamento. Quindi il vescovo salirà alla cattedra e si siederà. La celebrazione eucaristica procederà nel modo solito.